Eccoci, stasera a Tribù Europa 19, seguiremo questo countdown, meno tre giorni alle europee e alle amministrative e in questo clima da rush finale e da tregua armata nell'esecutivo dopo le tensioni e le schermaglie di questi ultimi giorni. E di questa sera la notizia di Matteo Salvini che torna a parlare dopo le ultime accuse provenienti dal Movimento 5 Stelle e dice io porto pazienza, tiro avanti e non ascolto quei rumori di sottofondo di queste ore di campagna elettorale segnata dalle tensioni di strada, di piazza a Genova. Ne parleremo subito il racconto della giornata in un minuto e intanto benvenuti nella Casa di Tribù. No, 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 no. No, 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 no. Mi sarebbe piaciuto approvarlo stasera perché il decreto è pronto, qualcun altro ha preferito rimandare e va bene. La TAVA sia l'esempio più importante del blocco che questi 5 Stelle vogliono di tutte le opere pubbliche. Il nostro obiettivo è chiaro, fare terra bruciata alla mafia. Un minuto di silenzio, una giornata di ricordo, buonasera, bentornati qui a Tribù Europa 19 dopo quello che è accaduto 27 anni fa, la morte del giudice Falcone, della moglie degli uomini della sua scorta, è lui il protagonista di questo inizio di puntata, tre giorni dalle elezioni. Ma la politica, una volta l'anno o piuttosto fra due mesi, quando sarà l'anniversario di Via D'Amelio o di un'altra strage, si ricorda della lotta alle mafie, cerchiamo di capirlo e per capire soprattutto se queste immagini sono servite a qualcosa e se sono soltanto ricordi del passato o devono essere continuo a monito per le forze politiche se davvero dicono e poi autueranno queste ricette. Anche in materia di contrasto alla criminalità organizzata, alla mafia e non solo siciliana, per comprendere ancora cosa sia successo quel giorno, nei giorni successivi e poi due mesi più tardi, poco meno, in Via D'Amelio dove trovò la morte l'altro giudice siciliano antimafia Paolo Borsellino. E' solo un inizio, questo per raccontarvi anche il clima di questi giorni. Ne parliamo con il sindaco di Torino Chiara Pendino, che a salute ringrazio. Grazie a voi, buonasera. E con il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Direttore, buonasera. Sì, buonasera. Vogliamo partire da qui, perché insomma ogni anno le autorità, la politica si ferma nel ricordo. La politica, sindaco, ha tra le priorità la lotta alla mafia anche in questa partita per le europee, perché non può essere soltanto una battaglia nazionale. Assolutamente sì, partiamo dal presupposto che la memoria è importantissima, quindi quando si dice che questi sono giorni importanti lo sono, perché le istituzioni devono far capire da che parte stanno. Poi è ovvio che ci sono tutta una serie di interventi che devono essere fatti quotidianamente, dal punto di vista normativo, dal punto di vista ovviamente istituzionale. Poi c'è un terzo tema che forse è il più importante, e cioè costruire una comunità che abbia, come dire, la capacità di respingere quello che è la mafia e una mafia che si può infiltrare. Quindi ci vogliono i tre elementi, il legislativo, ovviamente chi ha una responsabilità istituzionale che dice da che parte sta, ma tutta l'intera comunità che ne fa parte, che respinge eventuali tentative. Deve essere anche una battaglia culturale, insomma, quella che invocava appunto Falcone. Direttore, intravedi anche nelle parole, oltre che nelle agende e nei programmi, qualcosa che abbia a che fare con la lotta alle mafie nei partiti trasversalmente, intendo? Ma io sono d'accordo con quello che ha detto il capo della polizia, Gabrielli, che il principale problema della sicurezza in Italia è la lotta alla mafia. E perché la lotta alla mafia non si vince mai, perché la mafia sta cambiando, per fortuna non fa le stragi come 27 anni fa, ma si infiltra nell'amministrazione pubblica, si infiltra nell'economia. Tutto questo credo che sia ben presente a chi come magistrati e investigatori si combatte la mafia, un po' meno forte è questa presenza nella gente della politica. C'è un clima particolare che si respira in questo paese. In queste ore, nelle ultime ore, a Genova ancora si torna con scene di violenza, di tensione, ci sono stati dei feriti. Situazione diversa, quella che ha la vista protagonista, sono arrivate delle minacce, una busta con dei proiettili a lei, ad altri esponenti politici, anche lo stesso ministro dell'Interno Salvini. Come sta vivendo questa situazione, vista anche dall'interno? Beh, è chiaro che a me ha stravolto la vita. Io, fino al giorno prima della prima minaccia che ho ricevuto, sostanzialmente in seguito a uno sgombero di un centro sociale che era occupato da 25 anni, mi sono trovata dall'oggi al domani a che prendevo il tram da sola all'essere scortata sostanzialmente 24 ore su 24. È chiaro che, al di là del mio caso personale, ci tengo sempre a dire che soprattutto i sindaci, quindi gli amministratori locali, sono quelli più esposti, perché sono il terminale del paese. Io credo che, come è successo a me, le istituzioni e chi ha delle responsabilità, al di là del coroere politico, si debba schierare ovviamente a fianco a chi viene minacciato. Questo è successo tutte le volte nel mio caso, ma so anche nel caso del ministro Salvini. Quindi, come dire, non bisogna farsi intimidire, bisogna andare avanti per la propria strada, consapevoli del fatto che quando ti assumi delle responsabilità, sei magari più a rischio rispetto ad altri soggetti che sono meno esposti. Ho messo insieme alcuni fatti, direttore, slegati ovviamente tra loro, ma che ci raccontano anche di un termometro sociale. Questi scontri di cui vi parlavo poco fa riguardano alcuni manifestanti antifascisti in un comizio di Casa Pound, delle tensioni con alcuni poliziotti. C'è qualcosa, tu che hai raccontato, hai visto anche ad osservatore altri periodi di questo paese, c'è qualcosa di cui dobbiamo preoccuparci? O sono soltanto episodi confinati e isolati? Gli episodi sono certamente preoccupanti, stanno diventando anche molti, quindi sicuramente c'è da alzare il livello della vigilanza. Mi sembra però che questo periodo sia un periodo molto diverso da quello drammatico che l'Italia ha vissuto durante gli anni del terrorismo. Per fortuna non credo che ci sia un fascismo alle porte e mi sembra una ripetizione un po' stanca di un cliché del passato alcune di queste manifestazioni. Dopodiché le tensioni ci sono, le minacce ci sono, va fatto il massimo per contrastarle, per isolarle sia politicamente sia dal punto di vista della sicurezza. Mi riportiamo poi ai temi di strettissima attualità che sembrano di politica italiana ma molti osservatori ci guardano dall'esterno, europei e non solo. Oggi, a proposito di quanto dura questo governo, insomma la domanda che quasi ogni sera i politici, alcuni rispondono altri meno. Allora, veniamo ai protagonisti. Di Maio su Facebook oggi ha scritto «Sia chiara una cosa, per noi il governo va avanti ma ha un patto, più lavoro e meno stronzate». Insomma, è proprio il giro di parole. Metto insieme anche una dichiarazione, un colloquio con un uomo di peso della Lega proprio sul tuo giornale, direttore, che ci apriva a una grandinata. Diceva «verrà la grandine e i deboli cadranno». Allora, al netto delle dichiarazioni un po' più caute di Salvini di questa sera sono parole importanti pronunciate da due esponenti di primissimo piano. Dove andremo e quanto durerà questo governo? Ovviamente io sono abbastanza convinta, il mio auspicio, che il governo finisca il proprio mandato anche perché si è preso un impegno con un contratto di governo nei confronti dei propri elettori. Poi è chiaro che siamo in un clima di campagna elettorale e io dico sempre la mia esperienza, io ormai governo da circa due anni e mezzo e anche a me hanno sempre detto «cadrà, cadrà, cadrà» e dopo due anni e mezzo continuo a governare ed è una maggioranza, come dire, che fa parte solo del Movimento 5 Stelle. Quindi io credo che faccia bene Luigi Di Maio a puntualizzare ogni qual volta c'è una dichiarazione, ma al di là del tema della campagna elettorale una posizione che, come dire, è fuori dal contratto di governo e non appartiene al Movimento. Cioè siamo oggettivamente due forze politiche molto diverse e io rivendico la mia appartenenza al Movimento, la mia differenza rispetto alla Lega. È chiaro che non è un contesto semplice ma io sono convinta che andranno avanti con gli atti che devono fare per il Paese. Su questo contratto di governo del cambiamento, chiedo entrambi ogni volta abbiamo avuto qui l'una e l'altra parte ricordo domani avremo Matteo Salvini, abbiamo avuto la settimana scorsa Luigi Di Maio tutti ribadiscono abbiamo scritto nero su bianco alcuni punti condivisi ma il problema adesso della rottura, diciamo, o presunta tale è sulla tempistica di attuazione cioè non c'è scritto nulla rispetto alle priorità di attuazione di questi provvedimenti Appendino e poi direttore Fontana è lì che si gioca la partita la flat tax era una priorità poi scomparsa poi il caso Siri è ritornata in primo piano il caso Siri era fuori dal tema del contratto di governo io credo che bene abbia fatto il governo in particolare il Premier a prendere la posizione che ha preso ma al di là del caso Siri in realtà il contratto prevedeva alcune cose alcune sono state fatte penso al reddito di cittadinanza penso a quota 100 poi è chiaro che bisogna ragionare un'ottica quinquennale e in questo senso il mio auspicio che il governo vada avanti perché l'idea di dover sempre rincorrere l'obiettivo realizzare un obiettivo in pochi mesi ti può mettere in difficoltà e comunque io lo vedo nel mio piccolo due anni e mezzo di governo adesso sono al terzo anno inizio a raccogliere i frutti del lavoro fatto in due anni e mezzo quindi bisogna ragionare su cinque anni ci sarà una dialettica che continuerà a esserci ma ci sono degli obiettivi che deve portare avanti il governo Direttore è anche un problema di timing secondo te oltre di punti scritti e condivisi su quel contratto? Io sono un po' meno ottimista della signora Appendino sulle possibilità che questo governo vada avanti per tutti questi anni intanto direi che il contratto ormai non sappiamo più cosa sia è stato archiviato nessuno ne discute più gli ultimi due mesi sono stati passati con un governo che è stato trasformato in un campo di battaglia questo è evidente, qualsiasi questione dipenda il predesso e lo strumento per una competizione tra i due alleati di governo Ma è strategia secondo te? Quanto può durare? Adesso c'è stata molta tattica preelettorale però a un certo punto credo che da parte del Movimento 5 Stelle sia diventato anche un po' strategia si vedevano le quotazioni di Salvini salire sempre di più e quelle del Movimento scendere quindi si è deciso che andavano rimesse dal punto di vista del Movimento 5 Stelle le cose a posto questo cosa ha determinato che non si governa più quanto può durare questa situazione? Quanto può durare? Io ripeto, sono convinta che il governo lavorerà poi se è campagna elettorale incidere su Siri rispetto a dei valori che fanno parte del Movimento io credo che sia una lettura sbagliata io penso che Luigi abbia cercato quando era necessario a tutela dei valori del Movimento di inserirsi e rivendicare una differenza ma ripeto, quando si tratta anche di gestire temi più delicati come è stata la finanziaria l'ultima che è stata fatta comunque un accordo si è trovato quindi io ovviamente sono ottimista anche perché, ripeto, hanno un impegno nei confronti di molti elettori Mi ha dato l'assist per la prossima finanziaria è quello l'incidente possibile per una crisi di governo? o dall'interno dei 5 Stelle, dai vertici perché insomma l'esperienza di spicco dei 5 Stelle si pensa di affrontarla comunque in un clima di serenità con l'alleato legista? Io ricordo che anche l'anno scorso per la finanziaria scorso si diceva che sarebbe caduto il governo sulla finanziaria alla fine il governo l'ha portata a casa ha portato a casa anche degli obiettivi importanti quindi lavoreranno nell'ottica dell'interesse generale poi un governo deve lavorare nell'ottica dell'interesse generale che non è l'interesse partitico quindi io credo che affronteranno in questo modo con responsabilità, come giusto che sia Una battuta su questo, direttore rispetto a questo scoglio manovra bisognerà scongiurare se si troveranno questi 23 miliardi insomma l'aumento dell'IVA bisognerà attuare questo l'annuncio dello stesso governo anche dei 65 Stelle la flat tax sostenere anche un provvedimento che è già iniziato il reddito di cittadinanza è tutto possibile? Si tiene tutto insieme? Io non so si tiene tutto insieme se si lavora nell'orizzonte che si possono fare ancora si può fare tanto deficit in più e tanti debiti scaricandole sulle prossime generazioni e chi governerà nei prossimi anni a me sembra molto complicato che si riescano a mettere a posto le clausole già inserite nella scorsa finanziaria e che si facciano tutte quelle altre cose francamente mi sembra che avrebbero bisogno di un miracolo per affrontare serenamente tutto quello che hanno messo in campo Stiamo guardando al futuro ma vogliamo un attimo riavvolgere il nastro perché in tre anni sembra essere passato una vita e mi riferisco ad alcune immagini vediamole insieme Grazie Peppe! Grazie! Grazie Peppe! Qui c'era un leader all'epoca dell'Elemento 5 Stelle Peppe Grillo che esultava vivendo i raggi di Virginia Raggi l'Appendino diceva Chiara Appendino i due sindaci proprio con l'Appendino esatto però adesso è cambiato quasi tutto nel movimento c'è un Grillo garante ma un po' più distante un dibattista un po' ai margini anche rispetto a quanto possiamo vedere noi da fuori Luigi Di Maio che ha preso il pieno potere insomma da capo politico dall'interno come ha vissuto questo cambiamento potremmo dire epocale guardando all'interno della storia dei 5 Stelle Beh io l'ho vissuto come l'ho vissuto personalmente nel mio piccolo prima di essere e diventare sindaca ho fatto cinque anni di opposizione quindi evidentemente come dire quando passi da forza di opposizione a forza di governo ti devi strutturare e il tuo modo come dire di essere anche un pochino cambia però nell'essere come dire forza di governo rispetto a essere di opposizione io come dire sono molto più contente di essere forza di governo perché è vero che è più difficile è inutile negarlo e maggiore responsabilità ma è anche vero che vedi delle cose realizzarsi io vedo come dire nel mio piccolo sto lavorando finalmente sulla seconda linea metropolitana vedo che quando parlavamo di ciclabili che erano una priorità vedo i chilometri che iniziano a vedersi in città e lo stesso il governo nazionale il reddito di cittadinanza era un sogno ora lo vede realizzato è certamente più difficile non c'è dubbio però è anche più stimolante e insomma siamo alla prova qui Luigi Di Maio ci ha detto rispetto a una regola abbastanza vincolante anche per le prospettive future cioè quella dei due mandati che non è pensabile toccarla diversa sarà la situazione del trattamento per i consiglieri comunali e regionali però ha detto beh i politici nazionali io per primo finito questo mandato insomma sarò fuori continuo a essere capo politico a fare eco a questa posizione oggi Davide Casaleggio in un'intervista a Le Monde ha detto non si tocca nulla di quel punto dello nostro statuto secondo lei quale sarà il prossimo frontman o meglio potrebbe essere lei la woman del Movimento 5 Stelle nel caso di ricorso anticipato alle urne visto che Di Maio ci ha appena detto che dovrebbe essere fuori dal Parlamento io escludo ovviamente ricorso anticipato alle urne perché non è il mio auspicio e la seconda la esclude? io sto lavorando sono a metà mandato quindi io mi concentrerò nel portare a termine alcuni progetti che ho faticosamente iniziato adesso il terzo anno inizio a vedere la realizzazione quindi la mia concentrazione sarà ovviamente sulla mia città poi c'è un dibattito interno al Movimento quindi vedremo anche quali saranno gli sviluppi ma credo che ciascuno di noi all'interno del Movimento abbia un ruolo centrale come ce l'ha Luigi come posso averlo io nel governare una città e ciascuno appartiene a quella comunità quindi non smetterò di far politica quindi questo lo garantisco ci sono tanti modi per far politica non solo ovviamente come sindaco ma ci si occupa della cosa pubblica questo significa far politica e continuerò a appartenere alla comunità del Movimento riformulo la domanda dovessero chiederle di fare diciamo di correre con quel ruolo lì insomma non solo un capo politico dovrebbe restare a meno di stravolgimenti ma a meno che Di Battista ritorni sulla scena al momento appunto non sembra deciso a farlo a meno nell'imminente poi Grillo è ritornato a fare teatro dovessero chiederlo oggi lo escludo sono concentrata sulla mia città sono a metà mandato un impegno con i miei elettori e la mia amministrazione quindi porto a termine quello che ho iniziato sarebbe sbagliato lasciare a metà direttore Fontana abbiamo provato a fare la stessa domanda a Beppe Sala che aveva detto io sono fatto per le cose complicate per risolvere le cose complicate ribadendo sempre porterò avanti il mio mandato qui da sindaco cosa c'è dietro queste dichiarazioni c'è qualcosa in più? certamente è abbastanza normale che rispondano in questo modo anche perché diciamo le situazioni sono aperte le ambizioni non vanno messe davanti prima che siano come dire concrete e realizzabili io penso per quello che riguarda il Movimento 5 Stelle che ci siano due punti il primo è che chiaramente questo tema del vincolo dei due mandati è un tema che è un grosso problema per il Movimento perché limita la formazione di una classe dirigente alcune competenze che se il Movimento 5 Stelle vuole restare una forza di governo sono molto importanti il secondo punto è che Di Maio è dentro una trasformazione radicale del Movimento è stato affidato a Di Maio il compito di portare il Movimento 5 Stelle al governo e di realizzarne il programma se questo compito avrà buon esito probabilmente verrà cambiata anche la regola secondo me del doppio mandato e Di Maio potrà continuare altrimenti se le elezioni andranno male se il governo cadrà si aprirà uno scenario in cui il movimento rifletterà su se stesso Chiara Appendino credo che sia una possibile leader di un movimento che rimane nella prospettiva di governo per altri ruoli vedo più altre figure infatti se posso inserirmi Luigi ovviamente dal mio punto di vista sta facendo un lavoro straordinario quindi oggi non è all'ordine del giorno ma secondo me neanche dopo le elezioni il mandato di Luigi e il suo ruolo nel movimento e io credo che oggi il tema sia evidentemente che noi siamo forza di governo ci stiamo strutturando per essere forza di governo tante domande sono arrivate su Instagram per la sindaca di Torino una diciamo l'ho riassunta io chiedendole del futuro erano tante arrivate e scusami se te ne ho bruciata una vediamo a quella successiva perché ci apre un altro scenario più a sinistra se davvero è a sinistra del momento 5 stelle dici di più esatto su Instagram i nostri follower le chiedono che rapporti ha con Chiamparino farebbe un'alleanza nazionale con il PD con Chiamparino ho un rapporto istituzionale oggi stupisce forse che due amministratori un sindaco e un presidente della regione vadano d'accordo ma come dire è un obbligo e secondo me un dovere che noi abbiamo perché rappresentiamo delle istituzioni prima che i partiti quindi col presidente Chiamparino c'è stata una concordia su alcuni temi su altri la pensiamo diversamente penso al TAV per citarne uno ma si lavora nell'ottica del territorio in realtà io credo che come peraltro ha detto anche Luigi più volte se dovesse come dire tra 4 anni a fine mandato riproporsi una condizione in cui il movimento non avesse la maggioranza si ricadrebbe esattamente in quello che è successo perché oggi tutti chiedono perché non vi siete alleati col PD ma in realtà è stata fatta una proposta di contratto di governo con varie forze politiche e alla fine le persone che hanno voluto prendersi la responsabilità col movimento di governare sono stati coloro che oggi sono con noi al governo era un PD però guidato da Renzi era un PD guidato da Renzi e molti dei Cinque Stelle hanno detto il problema non è il PD ma il Renzi ora che Renzi non è più il segretario è cambiato qualcosa? ma non mi pare nel senso che anche alcune proposte fatte da Zingaretti mi sembra che non siano proprio coerenti con i valori del movimento io credo che noi dobbiamo innanzitutto portare a termine il governo e quindi 4 anni di lavoro e poi ripeto in seguito a future elezioni se non ci dovesse essere una maggioranza su un'unica forza a quel punto magari si dovrà riproporre un contratto di governo e verrà proposto a chi siederà in Parlamento però il tema se posso ritornare cioè noi parlo per me sindaco prima di tutto sono un sindaco e quindi rappresento un territorio quindi ho il dovere di collaborare con tutte le forze politiche questo non significa alleanze di governo da sindaco come ha visto questa storia che siamo rinviata di una settimana se sarà questo il rinvio a livello temporale il decreto sicurezza bis sembrava l'ennesima occasione di crisi poi alla fine dopo anche alcuni collochi con il capo dello Stato si è deciso lo ha detto lo stesso Presidente Conte di rinviare di una settimana condivide qualcosa di quel provvedimento voluto fortemente da Salvini tanto bisogna vedere che cosa c'è in questo provvedimento questa è una bozza che sta circolando bisognerebbe leggerlo ovviamente con attenzione perché le parole spesso cambiano e hanno anche un effetto sulla sua applicazione io dico questo da sindaca io ricordo tutta la discussione sul primo decreto si è deciso di o meglio Salvini ha deciso di cambiare tutta la gestione dei permessi umanitari che sono definiti oggi in modo diverso noi siamo in una fase di transizione ora io credo che l'emergenza sia l'applicazione di quel decreto che va da buon fine e non ci ritroviamo nelle città una serie di persone che secondo il decreto dovrebbero essere rimpatriate che in realtà invece siccome non ci sono gli accordi a quanto mi risulta magari non saranno in grado di essere rimpatriate quindi oggi la mia preoccupazione da sindaca è che quel primo decreto vada a buon fine perché i sindaci hanno espresso molte perplessità su quel decreto parlare di un secondo decreto mi sembra francamente come dire un po' frettoloso detto ciò bisogna vedere i testi certo è che voglio dire sono state espresse dal mio punto di vista anche dalla mia forza politica alcune considerazioni che condivido in pieno quindi qualche preoccupazione c'è anche da parte mia direttore Fontana sono dei provvedimenti così difficili da digerire soprattutto questa è un'ennesima prova di forza di Salvini e lo era anche l'insistere rispetto a una convocazione che avesse come ordine del giorno la valutazione e l'esame di quel provvedimento Certamente Salvini ha costruito sui temi dell'immigrazione e della sicurezza tutta la sua narrazione e la sua campagna elettorale quindi portare prima del voto a compimento un provvedimento come il decreto sicurezza nel modo in cui l'aveva formulato era sicuramente come dire un risultato politicamente importante ed è il motivo per cui alla fine questo provvedimento non è stato fatto oltre alcuni problemi seri che sono stati segnalati per quello che riguardava la costituzionalità del movimento mi sembra che sia questo provvedimento che quello il decreto per la famiglia che poi è stato smontato per la mancanza di coperture sono entrati in un gioco delle propagande elettorali meglio come dire un po' di freddezza affrontarli con serietà e soprattutto affrontarli in una maniera che siano produttivi perché il tema serio di come sia difficile poi alla fine fare rimpadre quanti illegali e persone illegali ci sono adesso nel territorio è un problema davvero serio vogliamo vedere un attimo quanto è social Chiara Appendini perché state comunicando voi politici locali, nazionali attraverso Twitter Facebook Instagram Pamela ritorno da te facciamo un attimo una radiografia social di Chiara Appendini abbiamo messo insieme qualche dato e qualche numero ad esempio i suoi follower su Facebook sono quasi 216 mila 60 mila e passa su Instagram 76 mila su Twitter possiamo dire che più o meno lei ha una media di 5,69 tweet al giorno più o meno che corrispondono a 7 ore al mese a proposito ovviamente di social lei nei giorni scorsi ha pubblicato anche una foto che ha ricevuto diversi like è questa la ritrae insieme al nipote di Milk lo storico attivista che ha lottato insomma in difesa dei diritti degli omosessuali la sua storia è stata anche protagonista di un film Milk con Sean Penn che ha anche vinto l'Oscar in quell'occasione quando l'ha incontrato l'ipote di Milk lui si è anche congratulato con lei per le politiche del comune di Torino ed in particolare per la decisione del comune di iscrivere e trascrivere quindi all'anagrafe i bambini nati da coppie omosessuali e su questo abbiamo chiesto a Di Maio quale fosse la posizione del Movimento 5 Stelle parlavamo anche d'altro ma lui è ritornato dicendo non glielo anticipo sentiamolo io ho detto di essere preoccupato da alcune posizioni che erano state esposte a Verona voglio precisare per me la famiglia è quella fatta con mamma e papà poi ci sono tante sensibilità nel Movimento Lei fa parte di quelle sensibilità che la pensano in un modo diverso? Beh io ritengo che si debba ragionare in un modo più allargato rispetto a che cos'è oggi la famiglia tant'è che una delle prime cose che abbiamo fatto è stato intitolare l'assessorato e l'assessorato alla famiglia alle famiglie ma per un motivo principale io credo che le istituzioni oggi abbiano il dovere di accogliere e non giudicare dal punto di vista morale per essere chiara per me è famiglia una coppia composta da due uomini è famiglia una coppia composta da due donne è famiglia una coppia o meglio una persona sola magari una mamma sola con una figlia ma al di là di quello che penso io quella che è la mia sensibilità io credo che le istituzioni non debbano ripeto giudicare moralmente che cos'è famiglia hanno il dovere di tutelare quei nuclei che si formano e che io personalmente ritengo famiglie e in questo senso ma c'è il dibattito su questo all'interno del Movimento perché è stato abbastanza netto anche nel dire che all'interno ci sono sensibilità diverse c'è confronto su questi temi perché siamo stati molto netti rispetto a Verona la gestione della Lega rispetto a quell'appuntamento tra le polemiche ma rispetto a questi temi beh è innegabile che ci siano sensibilità diverse come ha detto Luigi anche perché ci sono magari storie e provenienze diverse ma questo credo che caratterizzi molte forze politiche noi come città abbiamo voluto dare un segnale molto forte anche durante il Verona abbiamo esposto uno striscione dal palazzo della città in cui avevamo delle immagini di che cos'erano per noi le famiglie quindi con tante immagini dalla donna sola due uomini due donne e abbiamo deciso di fare le trascrizioni a tutela proprio di questi bambini e quindi ci sono alcuni momenti in cui il sindaco può fare la differenza mettendo una firma non spesso è così per me quella firma della prima trascrizione è stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita perché è da sindaca perché ho visto che con una firma potevo veramente cambiare la vita a delle persone cosa che non spesso accade nella vita di un sindaco Abbiamo visto sbirciando nei suoi account qualcosa che non passa inosservato che ci riporta a un tema di attualità e non solo a Torino Pamela Possiamo in effetti forse dire che il tema che trionfa soprattutto guardando i social è la notizia che sarà Torino ad ospitare gli ATP Finals dal 2021 Che impatto avrà questo evento per Torino e immaginiamo anche per l'Italia intera Enorme dal punto di vista economico si parla di circa 500 milioni di ricaduta un evento pluriennale del 2021 al 2025 per far capire la portata eravamo 40 città candidate al mondo abbiamo battuto città come Tokyo Londra Manchester Singapore Abu Dhabi San Pietroburgo quindi insomma è stata una grande battaglia un evento pluriennale che ci permette di avere anche a livello internazionale una grande risonanza e adesso ci stiamo già concentrando per renderlo un evento che abbia ancora maggiori ricadute il fatto che sia così ripetuto negli anni ci permette di costruire meglio delle filiere un evento che si apre e si chiude una tantum ti dà meno forza da questo punto di vista lei alla notizia appunto dell'assegnazione a Torino c'è stato un momento di festeggiamento suo del suo staff e riguardando quelle immagini pensa guardando anche a un'altra occasione qualcuno ha detto occasione mancata le Olimpiadi Invernali avrebbe festeggiato in un modo diverso a luce anche di questo evento ecco quello che stiamo rivedendo ci è capitato anche un ripensamento io avrei festeggiato così probabilmente se avessimo vinto le Olimpiadi con la candidatura di Torino io ricordo che io ho forzato moltissimo ho creduto molto nel progetto Torino città olimpica perché significava recuperare le strutture esistenti come dire a pochissimo impatto ambientale e su quello ho creduto e continuo a credere il modello A3 a me non ha mai convinto perché per Torino ovviamente era non una gestione unica delle Olimpiadi non era chiaro chi sosteneva i costi quindi erano molti rischi sono molto contenti di aver vinto le ATP che sono 5 anni ed è un'Europa che ci guarda è un'Europa che possiamo immaginare potrà cambiare chiedo a entrambi alla direttore Fontana che Europa sarà qualcuno dice sarà molto più sovranista del passato altri dice ci sarà un espluà magari ma non tale da poter condizionare le scelte delle due forze tradizionali quella socialista europea e il partito popolare che Europa sarà del 27 quando ci sveglieremo il 27 è difficile per chi dormirà giustamente io credo che seguirò quindi sarò tra quelli che dormiranno poco è difficile fare delle previsioni il mio auspicio è che sia un'Europa in cui ci si torni come dire a sentire protagonisti e che riporti un po' questo senso di appartenenza di comunità io personalmente ho sempre creduto nell'Europa però oggettivamente c'è un tema molti cittadini italiani non si sentono più parte di questa Europa quindi ci si dovrebbe un po' interrogare su come far tornare quel senso comunitario da cui era iniziato il processo europeo oggi è difficile fare previsioni ci provo con te direttore che Europa possiamo immaginare di ritrovare il 27 ma avremo un'Europa in cui sicuramente le forze nazionaliste e sovraniste avranno un peso maggiore nel Parlamento europeo ma che dal punto di vista della maggioranza della guida dell'Europa io credo che sarà in continuità con quello con il Parlamento e con la Commissione che ci lasciamo alle spalle naturalmente questo spero che la continuità non sia una continuità che ripercorra tutti gli sbagli e tutti i passi fatti dall'Europa in questi ultimi anni perché di discontinuità e di cambiamento c'è bisogno probabilmente sarà un'Europa anche un po' più severa con l'Italia nonostante la narrazione che si sta facendo perché probabilmente le forze che comporranno la maggioranza avranno delle componenti ancora più critiche nei confronti soprattutto della nostra tenuta dal punto di vista dei conti nei confronti dell'Italia voglio mostrare a voi e a chi ci segue da casa quelli che anche per noi in nostra narrazione sono i veri protagonisti di questa partita e sono i giovani o li abbiamo ascoltati finalmente li vediamo e li ascoltiamo perché spesso possiamo anche dire che la politica ne parla tanto ma forse ne ascolta poco questa è un'occasione ogni sera per ascoltare la voce di uno di questi ragazzi che è in giro per l'Europa e non solo è Anna Belotti questa volta che ci racconta una delle sue urgenze un tema che secondo lei dovrebbe essere una priorità nell'agenda dei politici un attuale problema che come giovane italiana avverto è la parità di genere principalmente nel mondo lavorativo perché quando noi donne soprattutto giovani andiamo a fare un colloquio di lavoro ci viene chiesto se in futuro abbiamo in programma una maternità e se siamo fidanzate questo condiziona le mie competenze il mio percorso di studi gli sforzi che ho fatto questo secondo me è un problema che non è attualmente risolto e nonostante sembri che se ne parli ad oggi non è ancora una realtà superata Da donna cosa risponde a questa ragazza? Che assolutamente ragione io parlo delle mie esperienze personali e io sono molto fortunata perché ho dei nonni che mi aiutano una bimba di tre anni faccio un lavoro che mi impegna praticamente 24 su 24 ma ci sono molte donne che non hanno la fortuna che ho io che hanno magari anche il carico dei genitori oltre che dei figli quindi il tema secondo me è da un lato ovviamente costruire degli strumenti che facilitino come dire il posizionamento di donne in luoghi apicali anche se in realtà le donne capaci ci sono ma il grande tema è costruire una cultura e come dire un servizio di welfare che accompagni le donne affinché non si trovino costrette a dover scegliere se non sono fortunate perché hanno degli appoggi familiari molte donne sono sole quindi sola con bambino è complicato stiamo nel mondo dei giovani europei lei ha fatto un'esperienza a Erasmus per caso da io ho fatto non Erasmus ma la quarta liceo in Germania quindi ho fatto hai un buon ricordo di quella ottimo lo consiglierei vediamo la possibilità per qualche minuto di ritornare in quell'ambiente lì di una studentessa in questo appartamento pronta a partire con chi tra queste quattro opzioni tutte interne al momento 5 stelle non so se è più facile o più difficile Luigi Di Maio Di Battista Fico e Beppe Grillo con chi domani si sentirebbe pronta di partire per un viaggio anche abbastanza lungo dai 6 mesi ai 12 mesi però non fosse allora Luigi no perché deve rimanere qui perché ha grandi responsabilità quindi non posso portarlo via dal governo e c'è bisogno di lui anche se è quello che ha bisogno di più supporto e diciamo idem ovviamente Roberto e quindi Beppe è un po' che non lo vedo non lo sento quindi sarebbe l'occasione per far due chiacchiere bene grazie grazie a Chiara Pendino per essere stata con noi grazie a Luciano Fontana direttore del Corriere della Sera grazie per essere stato con noi direttore e diamo un appuntamento grazie a voi oltre alle elezioni ma anche con tre giorni allo special la maratona lunghissima in cui vi racconteremo tutto in tempo reale vi ricordo gli appuntamenti vedete già i due protagonisti di domani sera Matteo Salvini vicepremier ministro dell'interno e il leader dei fratelli d'Italia Giorgia Meloni l'appuntamento è sempre qui su SkyTG24 con Tribù Europa19 buonasera grazie a tutti